Ciao a tutti voi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea di scommesse.commentirecensioni.com e assieme a Michele e a Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite di Europa League e non solo. Oggi infatti siamo qui per le quote antepost per i vincitori dell'Europa League. Prima di cominciare vi ricordo due cose importantissime, la prima è quella di mettere like a questo video, iscrivimi al nostro canale e attivare la campanella, e la seconda è quella di guardare il video fino alla fine per non perdervi nessun pronostico. Nel video di oggi andremo a fare un confronto tra i principali bookmaker per vedere quale ha le quote migliori per le quote antepost dell'Europa League. Cominciamo col sito di SNAI che vede le due italiane favorite per la vittoria finale, con la Juve che è quotata a 2,75 in vantaggio rispetto alla Roma che è quotata a 3,75, seguita poi dal Bayer Leverkusen quotato 4 e dal Siviglia quotato 5,25. Tutte le quote che andrò a leggere in questo momento sono aggiornate al 21 aprile 2023. Seguiamo poi Eurobet che è concorde con una possibile finale italiana, e banca alla Juventus come SNAI per la vittoria finale, ovvero 2,75. La Roma invece è quotata a 3,85, quindi 10 centesimi in più. Poi troviamo il Bayer Leverkusen 3,85, quindi un po' meno rispetto a SNAI, e poi Siviglia 5, che è sempre un po' meno rispetto a SNAI. A seguire troviamo un Betflag che è in linea con SNAI, infatti ha le stesse identiche quote dell'altro competitor nazionale, quindi 2,75 per la Juve, 3,75 per la Roma, Bayern 4 e Siviglia 5,25. Finiamo poi con Bwin che curiosamente, e in totale contrapposizione rispetto agli altri bookmaker, inverte le posizioni di Roma e Leverkusen, quindi troviamo la Juve a 2,75, il Leverkusen a 3,50, la Roma a 4 e Siviglia a 4,50, quindi anche Siviglia un po' meno rispetto agli altri competitor. Quindi quali sono le quote più alte dei siti di cui abbiamo fatto il confronto? Allora, per la Juve troviamo sempre 2,75, che sia SNAI, Eurobet, Betflag o Bwin. Per la Roma invece troviamo 4 sul sito di Bwin. Per il Bayer Leverkusen abbiamo sempre anche qui 4 come quota, però sia sul sito di SNAI sia sul sito di Betflag. E per il Siviglia 5,25, e per il Siviglia troviamo 5,25 sia per SNAI che per Betflag. Prima di continuare con i pronosti ci voglio ricordarvi che se volete tenere il bonus di SNAI da 325 Euro, dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su Avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su Avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali a 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'Agenzia Dugane Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Se però dovessimo tornare un po' indietro nella storia, come sono messe queste squadre che potrebbero essere le possibili vincitrici nell'Europa League? Beh, allora, l'ultima semifinale della vecchia signora in una Coppa UEFA risale alla stagione 2013-2014 contro Benfica, quando c'era Antonio Conte. Mentre per trovare l'ultima finale di Coppa UEFA bisogna ritornare indietro fino al 94-95 quando giocava effettivamente Antonio Conte, quindi era ancora in campo. In cui però la Juve non uscì vincitrice perché ad alzare la Coppa al cielo fu il Parma di nevi a scala. Se guardiamo poi le due squadre, Juventus e Roma e le due squadre italiane, troviamo un po' un divario in Europa League perché la Juventus vanta il record italiano insieme all'Inter di vittoria in Europa League 76-77, 89-90, 92-93 mentre la Roma può vantare solo una finale nel 90-91 oltretutto persa nella doppia sfida contro l'Inter. E poi nulla di fatto se non una semifinale nel 2020-2021 contro il Manchester United. Quindi diciamo che qua la Roma scherseggia un po'. C'è da dire però che nella panchia di giallorossi si è da un certo Giuseppe Morigno che di vittoria in ambito internazionale ne capisce abbastanza. Infatti lo Special One è l'unico ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club. Ha vinto la Champions nel 2004 col Porto e nel 2010 con l'Inter. La Coppa UEFA o Europa League nel 2003 con l'Importo e nel 2017 con lo United e la Conference League l'anno scorso con la Roma. Però tra tutte queste quote ce n'è una che fa un po' sorcere il naso ovvero quello del Siviglia perché il Siviglia vanta il record assoluto di vittoria in Europa League 6 trofei in bacheca in 6 finali giocate e l'ultimo è stato nel 2019-2020 però a livello di quote è la sfavorita tra le altre 3. Il motivo va cercato probabilmente nell'andamento disastroso in campionato infatti attualmente il Siviglia è tredicesimo posto a 8 punti dalla retrocessione. Quindi diciamo che quest'anno non si sta comportando a livello di rendimento come l'anno scorso e quindi per questo motivo è sfavorito. Rimane però ancora una squadra ovvero il Bayern Leverkusen che in questo momento viaggia al sesto posto in Bundesliga con 6 lunghezze di ritardo dal Friburgo ma ha saputo trovare 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 di campionato. Quindi diciamo che il rendimento ultimamente sta andando meglio e in Europa League pure ha fatto delle gran belle partite diciamo è stato convincente e quindi per questo magari Bwin la mette un po' più in alto e ha invertito le quote rispetto agli altri siti. Ricordiamo inoltre che Leverkusen vanta la Coppa UEFA nella sua bacheca che è stata vinta nella stagione 87-88 nel doppio confronto contro le Spagnole. Prima di continuare con i pro... Prima di terminare il video vi voglio ricordare che se volete ottenere il bonus di Golbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video cliccare sul secondo link in descrizione dopodiché vi saprà questa pagina ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione vi saprà questa pagina ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Per oggi è tutto se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici. Buone scommesse!